Passiamo adesso all'ultima relazione, l'ingegnere Luca Studer del Politecnico di Milano sui Il risultamento di supporto della gestione del trasporto pubblico, in particolare dovrebbe essere trattato il tema anche di informazione all'utenza che è un elemento che a mio avviso può dare un contributo notevole al settore soprattutto in quella visione di sistema di trasporto multimodale il cosiddetto multimodale transit in cui il trasporto pubblico è l'asse portante ma deve essere integrato con una serie ampia di modalità di accesso e di egresso e quindi integrazione che può avvenire soltanto con gli sviluppi della telematica. Prego ingegnere. Grazie, allora appunto sono Luca Studer del Laboratorio Mobilità e Trasporti qui del Politecnico di Milano e sono quella persona che adesso di fatto vi separa dal pranzo, quindi per evitare di essere cannibalizzato cercherò di essere rapidissimo, spero altrettanto chiaro. Mi permetto di portare i saluti del professor Podestà, prima in pensione qua al Politecnico di Milano è stato ovviamente un grande promotore dei trasporti e credo anche membro del gruppo Venezia prima citato, quindi oggi non ha potuto essere presente. Come detto affronterò alcuni argomenti sulla gestione, su un strumento di supporto alla gestione in caso di eventi rilevanti del TPL che è stato realizzato nell'ambito di questo progetto, di un progetto Motus, molto più ampio che qua non abbiamo il tempo di affrontare. Di fatto si cerca con questo strumento di creare delle strategie, delle misure, delle azioni per gestire situazioni di eventi rilevanti, quindi di fatto chiusure. Quindi la creazione di scenari incidentali, quindi di interruzione e soprattutto i due aspetti importanti sono la regolazione dei flussi, quindi cercare di portare gli utenti verso una situazione di distribuzione sul resto della rete che prima Maria ha ben presentato, cercando di minimizzare l'impatto dei ritardi. E poi l'aspetto appunto sull'informazione, che serve anche appunto per gestire la domanda, di informazione all'utenza e soprattutto di individuare quali sono i punti su cui dare informazione all'utenza e poi cercare di personalizzarla in base ovviamente a quelle che sono le origini e destinazioni degli utenti stessi. Ovviamente a Androsvelto abbiamo utilizzato un modello di simulazione, di cui si vedono alcuni screenshot, e abbiamo considerato l'intera offerta di trasporto, quindi l'intera rete, proprio perché si può aiutare vicendevolmente per minimizzare i ritardi, quindi la rete su ferro, la rete metropolitana, tramvia e anche la rete di autobus, proprio per poter avere un'alternativa alla parte interrotta. Sono creati tre blocchi, quindi la definizione dello scenario incidentale, quindi la possibilità di introdurre un'interruzione. Evidentemente l'assegnazione al trasporto pubblico, tenendo in considerazione ovviamente il riempimento, quindi situazioni particolarmente importanti in una situazione in cui è in atto un incidente, un evento rilevante, e poi dal confronto dell'analisi della situazione prima dell'incidente rispetto alla situazione dopo l'incidente, è possibile trarre alcune conclusioni e è possibile definire alcune strategie e azioni per il gestore. Appunto questa è l'interfaccia per inserire un evento rilevante, ma a tenere conto anche di tutti gli eventi in essere, quindi le varie deviazioni, le varie interruzioni che sono già in qualche modo programmate, ma che vanno a modificare la rete. Qui vedete molto bene il fatto che un evento rilevante, che purtroppo accade di sovente, va di fatto a togliere un collegamento, quindi a interrompere un collegamento, a togliere un link sulla rete principale. A questo punto subentra lo strumento che è in grado di vedere la deviazione, di come deviano i passeggeri, o meglio, cerca di capire come deviare i passeggeri per fargli lo stesso raggiungere la loro destinazione, cercando di contenere quello che è il disagio che comunque chiaramente si crea. Quindi percorsi alternativi rispettando le matrici origine e destinazioni, il sovraccarico di alcune linee che chiaramente sono sovraccaricate, quindi la possibilità di vedere come modificare l'esercizio e la generazione automatica di report automatici in specifici punti. Mi piace vedere sulla parte bassa a destra come da un'interruzione, in questo caso della linea verde, si creino tanti percorsi alternativi che poi vedremo in maniera più precisa, di ampio raggio. Qua salto questa slide che indica appunto come eventualmente potenziare l'offerta su alcune linee che vengono sovraccaricate, e mi soffermo invece su questa che cerca di individuare appunto quali sono i punti critici su cui è necessario dare l'informazione, su cui è necessario dire all'utenza cambia mezzo, non andare nella tratta che è interrotta. Ovviamente questi punti di informazione devono essere anche molto a monte, proprio per permettere una deviazione senza arrivare nel luogo dell'accadimento. E si vede appunto l'individuazione. Anche qua non sto a soffermarmi tanto sul metodo, quindi ci sono degli archi che si caricheranno maggiormente, degli altri archi che ovviamente si andranno a scaricare, ma soprattutto sono i nodi. Nella parte in alto a destra si vede come questi possono essere circunnavigati, la parte interrotta, e quindi si cerca di analizzare quali sono i nodi significativi su cui cercare di dare informazione. La riportistica, quindi per ciascun evento, per ciascun nodo, ciascuno, per gli nodi che siano ritenuti importanti viene data la possibilità di informazione, la possibilità di creare azioni per modificare il comportamento degli utenti, e poi il gestore a questo punto deciderà che cosa fare. Continuo a correre, questo è un esempio sull'interruzione per chi di Milano, ad esempio, tra Loreto e Cascina Gobba, e a quello a cui tengo particolarmente è il fatto che sicuramente lo strumento indica soluzioni locali, quindi l'autobus, il tram, su cui dirottare localmente, in base alle origini e destinazioni, le persone, ma, e qua lo vediamo in basso a destra, nel box in basso a destra, dà anche indicazioni di ampio raggio, come ad esempio dice, se state arrivando a Lambrate, rimanete sul treno e andate oltre, andate fino a stazione centrale, in modo da poter prendere un'altra soluzione a voi idonea, perché in base alle vostre origini e destinazioni, o addirittura in basso a sinistra, la rete ferroviaria, diciamo la circa ferroviaria meridionale, quindi percorsi sia alternative sia di locali, sia di ampio raggio. Ho corso, quindi osservazioni, abbiamo visto che il sistema funziona soprattutto da risposte che ci sembrano realistiche e ovviamente vanno sempre più tarate in base alla domanda, il sistema, lo strumento sembra essere idoneo ed è applicabile da parte del gestore, e mi soffermo sulla possibilità di sviluppo che è quella della parte di comunicazione, cioè la possibilità di dare informazioni con strumenti sempre più nuovi, le app, Twitter, i pannelli a messaggio variabile, e chiaramente questo strumento permette di dare informazioni che sono personalizzate, che tengono conto dell'origine e destinazione, quindi un'informazione che potrebbe essere data in tempo reale e per il singolo utente. Adesso ovviamente la slide che è forse più interessante del mio intervento è, per chi non lo sa ancora, come andare a mangiare, quindi lo sapete già, e quindi esatto, informazioni all'utenza affamata. Quindi a questo punto non posso che augurarvi buon appetito.